Stefano Tito Manlio, ex funzionario del Tribunale di Vicenza ed ex guardia linee di Serie A, accusato di corruzione a patteggiato. Due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione senza la sospensione condizionale. Probabilmente andrà ai servizi sociali. Oltre al protagonista principale dell'inchiesta, sono scesi a patti con il giudice e con il pubblico ministero anche le altre due persone coinvolte nella vicenda. Un 69enne di Tiene, che si è accordato per un anno con la condizionale, mentre il geometra 54enne di Piovene coinvolto in questa vicenda ha ottenuto dieci mesi anche per lui pena sospesa.